Qui vi presentiamo le 5 migliori asciugamani. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Zollner 6 asciugamani per gli ospiti. Avete intenzione di ripristinare i vostri asciugamani, ma non avete intenzione di investire troppo? Non sprecate alcun tipo di tempo ancora di più alla ricerca di offerte, e scoprite anche cosa vi offriamo in questa valutazione grazie a un pacchetto superbo e anche economico di. Sono infatti realizzati con spugna di cotone fine e abbastanza assorbente. L'assenza di fibre sintetiche le rende sicuramente ottimali anche per chi ha la pelle delicata. Se si verificano reazioni allergiche, è necessario capire che si può anche pulirli ad alte temperature, fino a 95-8, per eliminare completamente anche uno dei germi più ostili. Passando al numero 4. Amazon Basics Asciugamani in cotone. Si tratta di un pacchetto di 24 asciugamani tuttavia che si può anche selezionare nella sua variante 12 che è ideale per lo sviluppo di una fornitura per il centro fitness o probabilmente per un posto di lavoro. Sono tutti pezzi equivalenti di circa 30x30 cm che puoi tenere divisi nelle diverse stanze della tua casa per averli costantemente a portata di mano per asciugare le mani o, perché no, per pulire. Ogni pezzo è costruito in spugna di cotone ad anello che sarà super absorptive e quick drink, e anche la dolcezza che sicuramente sentirete quando lo si utilizza. La capacità di mantenere l'umidità rimane in realtà molto potenziato in questo modello Amazon Basics, così come sicuramente vi sentirete come fare uso degli asciugamani che si scoprono in alberghi di lusso. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Utopia Toves Set Ogni volta che si acquistano nuovi asciugamani, si capisce che le qualità morbide è versato un po' con ogni lavaggio. Utopia Toves ha prodotto per voi un set completo particolarmente fatto per fare una certa dolcezza di lunga durata anche dopo molti lavaggi. La funzione che ci ha colpito uno dei più, tuttavia, è quello che abbiamo affermato in precedenza, che è la loro morbidezza. Sono in realtà costruiti in cotone 100% Rinspu, un tipo di rotazione che migliora la sensazione di dolcezza sulla pelle e che è altrettanto davvero resistente. Almost at the top of our list at number 2. Amazon Basics Set di due asciugamani da bagno Vieni ad essere indipendente dalle tue mamme e papà e desideri acquisire un set completo di asciugamani di qualità che non valuta troppo sul tuo portafoglio? Con questo Amazon Basics stabilito si avrà certamente ognuno di questo e non avrete considerare nient'altro. Leggi la nostra testimonianza e scopri cosa ti fornisce. Per una prima residenza e uno scapolo, questa collezione è davvero la parte superiore. Consiste di due asciugamani da bagno di 140 x 70 cm, due per la mano di 100 x 50 cm e due per il bidet di 30 x 30 cm. Come puoi vedere, non avrai bisogno di nient'altro. E infine il numero 1 della nostra lista. Amazon Basics Set di asciugamani ad asciugatura rapida. Si tratta di una collezione totale, contenente due asciugamani da bagno che misurano 140 x 70 cm ciascuno e quattro asciugamani che misurano 50 x 90 cm. Ideali per asciugare le mani e il viso. Se sei una famiglia più grande, basta acquistare più confezioni, in modo da coprire le esigenze di tutti, ma non sarà una preoccupazione perché dopo aver provato la qualità di questo prodotto non si vuole utilizzare nient'altro. Ogni pezzo di questa collezione è realizzato in cotone 100% e scoprirai subito la sua morbidezza e speciale su tutti i tipi di pelle. Infatti, dato che non hanno fibre artificiali, è possibile utilizzare asciugamani di spugna nonostante i bambini estremamente piccoli che, si capisce, hanno una pelle davvero delicata. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.